Commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa, di cui è stato Presidente già dal 2012. Già Presidente della CNA Toscana e componente della Sfilea e dell'Aggiunta di Union Camere Toscana. Nel corso della sua carriera ha maturato numerose qualità e esperienze del sistema camerale e associativo, dedicando particolare attenzione alle tematiche legate al sistema delle piccole e medie imprese. Si è contraddistinto per le sue notezze di capacità di relazione, per essersi particolarmente impegnato alla crescita della cultura delle responsabilità sociali di imprese e per aver contribuito, durante la pandemia da Covid-19, al sostegno e alla ripartenza delle imprese. Consegnano il Presidente di Pisa, il Dottor Giuseppe Castaldo e il Vice-Sindaco di Ponte Vera, Alessandro Puccinelli. Grazie.